Presto nel comune di Capaccio Pestum saranno installate 22 pensiline per l'attesa dei bus con annessa palina di fermata. L'iniziativa sarà totalmente gratuita a carico dell'ente comunale, un'opportunità per la città che persegue gli obiettivi di innovazione tecnologica del territorio spinta verso la green economy e servizi innovativi alla cittadinanza con incremento dell'offerta turistica e commerciale con un impianto di assoluto prestigio. La società che si occupa dell'installazione delle pensiline sarà la SASEP SRL, la quale ha proposto all'ente Capaccese l'utilizzo delle pensiline mediante la formula di co-marketing. La durata dell'accordo sarà di sette anni decorrenti dalla loro collocazione. Inoltre la SASEP provvederà per l'intera durata del rapporto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati e provvederà al versamento delle dovute imposte.